Siamo in diretta con Mr. Davide Falcone, è una partita che alla fine è finita 3-1, che fino a un certo punto avete retto. Poi è successo qualcosa anche, l'infortunio al giocatore numero 5, mi pare, come sta? Ha il setto non sale deviato, mi dispiace che l'arbitro a pochi passi non l'abbia visto e non abbia interrotto il gioco. Per cui stiamo parlando del 3-0, ma d'altra parte, al di là dei numeri e del risultato, ci sono state tante altre decisioni in maniera molto poco chiara, in momenti chiave della gara. Senza Fronzoli mi riferisco al, secondo me, rigore, poi c'è una telecamera, ho visto una palla che passa e il russo che viene atterrato. Sarebbe stato probabilmente l'1-1 in una partita che comunque eravamo sotto senza mai aver avuto patemi d'animo. Anche sull'1-0 avrei da ridire, un fallo secondo me su Buongiorno a metà campo mentre stavamo salendo e veniamo imbucati. Ma il futuro lo vedo come l'esperienza mi ha insegnato, abbassare la testa, continuare ad allenarsi. Abbiamo uno scontro diretto in casa con lo Schiavonea che è in salute, allenata da un grande allenatore, un mio amico, che ieri ha vinto contro il Rogliano, contro il quale noi abbiamo perso. Quindi sembrerà uno spot, ma non è mai facile. Noi puntiamo alla salvezza il prima possibile, abbiamo qualche margine di vantaggio, ma non sapendo cosa è successo, in giro dobbiamo andare via il prima possibile. Ok, le due trasferte cerchiamo di archiviarle, dobbiamo imparare qualcosa e sarà dura fino alle ultime giornate, ma come sempre, io non ho mai professato nulla di diverso. Allora, siamo con il mister Luciano Vaccaro alla fine di questa partita, vinta con il margine più largo del risultato, un 3-0, poi trasformato in 3-1 per quel rigore. Intanto complimenti e alla fine, insomma, a un certo punto del secondo tempo sembrava che loro stessero venendo fuori, e meno male, insomma, che Rial Santari ha trasfruttato gli spazi. Sì, in effetto è così, noi abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo me, dove potevamo segnare già il primo minuto con Crispino. Poi il secondo tempo, loro, è normale che cercavano di riaprire la partita, però noi abbiamo parlato negli spogliatoi con i ragazzi e abbiamo preparato delle ripartenze veloci, anche perché nel primo palleggio oggi mancava gente come Sposito. Quindi cercavamo di verticalizzare subito l'azione e uno di queste abbiamo avuto almeno 3 o 4 occasioni sull'1-0, dove potevamo comunque già chiudere nei primi minuti del secondo tempo. Poi magari loro si sono anche un po' nervositi per alcune situazioni e poi hanno comunque finito la partita in 10. La squadra gira bene perché comunque è un periodo positivo, è un periodo dove ci alleniamo bene. 10 punti in 4 partite. 10 punti in 4 partite. Io mi dovevo andare via, io ho detto che dovevo andare via prima della partita con la Rassanese, se avessimo fatto 0 punti abbiamo fatto 9 punti nelle ultime 3 partite, quindi questo è il calcio. Siamo quarti, però noi l'obiettivo è sempre quello di rimanere nella categoria.